Salve a tutti ragazzi per tornare a un'altra puntata di La vita al fumatore e questa è la terza parte, si può finire così, sui prodotti dell'Eurocari della seconda stagione, o la quarta non mi ricordo più, va bene, comunque se avete capito, oggi sono qua per farvi capire, per spiegarvi cosa è sto coso, è che cazzo, praticamente sono le Smoking Rolls, sono delle cartine ovviamente, di tipo B, so che non è che hanno il contenitore delle 50, delle 100, di quello che volete voi, delle standard, che si attacca qua, diciamo così, però voi cosa potete fare? Aspettate, prima di questo, perché le cartine si dividono in larghezze e lunghezze, cioè tipo 1.0, 1.4, 1.5 e poi le king size che sono come quelle sono cartine lunghe, queste qua invece sono una via di mezzo fra tutte queste qua, praticamente cosa potete fare? Voi potete farvi delle sigarette lunghe 4 metri, perché potete farlo, capite? Adesso non me ne posso fare lunghe di 4 metri anche perché, altrimenti non torno più a casa, anche se sono a casa, lasciamo perdere, è un bel problema perché non si inserisce più, va bene, lasciamo a metà e sono larghe come le cartine a 1.4, se non sbaglio, quindi praticamente questi filtri qua che sono gli extra slim, me ne faccio ben poco, diciamo così, però comunque potete fare, oltre a farvi delle cartine, delle cartine, delle sigarette o quel cazzo che volete voi, lunghe 4 metri, io me la faccio larga così, cioè lunga così lì anche perché già è larga, figuriamoci voi se devo fumarmi un torsone gigantesco, buf, ecco fatto, come una cartina normale quasi, che altro c'è da dire? 4 metri, cartine di classe B, 1.4, vedete di che? Appunto sto dicendo, visto che ho i filtri extra slim, eh, solo per farvi notare, praticamente la cartina si avvolgerà tipo 6 o 7 volte qui sul filtro, vabbè, e vabbè, e niente, andiamo a rollare, comunque sia, è come se fosse una cartina, si, prendo così poco tabacco, sono nella merda, allora, gente, io adesso non è che sono scemo, faccio finta di farlo scemo, preseguo assolutamente le usa che si fa i cannoni ovviamente, o i joy, come il cazzo potete chiamarli voi, appunto per farsi un joy bello grosso, 4 metri, largo tanto, per fare su un trifase, ecco, di solito, semplice, no? Comunque sia, visto che siamo in Italia, la marijuana non è ancora legale, comunque sia, io ne farebbe un poco, sinceramente, non posso farvi vedere cose così. diciamo che se voi andate in America, o sui canali americani, è pieno di gente che fa video su la marijuana, quindi, non perché sono informato io, perché me l'hanno detto, ho detto, eh, fai anche te un canale così, no, grazie, non fumo una robaccia, robaccia, per amore di Dio, c'è la robaccia, per porca puttana, perché voi se voi andate da gentacce, tipo qua a Varese, che te la vede strapucciata, capita a me che è robaccia, come dice Cree, eh, ma è cacca, quindi adesso ci vediamo fuori, perfumarlo, comunque sia, viene un drum normale, cioè, cazzo, avessi fatto un drum grosso così, mi cagherei in mano da solo, però, diciamo che sono utili a un secondo fine, poi, vabbè, potete, con quattro metri, potete farvi che cazzo ne so, visto che un drum è così, quanto è? Sette centimetri, circa, più o meno quasi, in quattro metri, mi sicuro siete rilusibili, sono quasi, sette, sette, qualsiasi, 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 richieste su Facebook, io ne sbatto i coglioni da davanti, con l'accensione di, delle smoking rolls, comunque sia, non è che c'è, scusate, non è che c'è tantissimo da dire, anche perché sono delle cartine normalissime di classe B, solo che sono un po' più larghe, un po' più lunghe, quindi, un po' più lunghe, un po' tantissimo lunghe, niente di che, sono comunque sia, come le smoking silver, sono come le smoking silver, solo che sono un po' più larghe, per l'appunto, per quelli di voi che vogliono farsi i suddetti cannoli, non ripiediti, di crema ovviamente, si possono trovare benissimo sui locali, quindi, se siete dei, fatte anzi, diciamo così, ordinateli da lì, che comunque sia, verranno fuori dei, così lunghi così, eh, io non ne so niente però, eh, non voglio, distigare la gente a fare le cose, comunque sia, come le cartine bruciano bene, non hanno niente di che di particolare, le mie aromatizzazioni, e sono fatte con qualche cazzo di materiale strano all'uomo, fatto in cellulosa, cazzo volete fare, e niente, appunto, non c'è tantissimo da dire, comunque sia, vi ricordo che sono 4 metri di cartina, per 1,4, quindi, quella grossa, vi potreste divertire molto meglio di me, non c'è niente prove, quindi, detto questo, io non ho nient'altro da dire, nonché grazie a tutti voi apostoli della vita del fumatore, grazie a Giacomo di Eurocali per, come si dice, per la preferenza accordata, si dice così, un saluto a tutti, a tutto lo staff dell'Eurocali, un saluto a tutti voi apostoli, eccetera, eccetera, anche perché discepolo non è proprio un termine proprio aggregativo, avete capito, vabbè, non posso scavarvi evangelisti, però comunque sia, le mie gesta non le scrivete, quindi, detto questo, ci vediamo la prossima puntata di Eurocali del fumatore, mamma mia, c'è un raffreddore che mi ha colpito, piena crisi, cazzo, c'è un naso di brucia bestia, comunque sia, ci vediamo la prossima puntata di Eurocali del fumatore, state bene, ciao a tutti!